Buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo super video dove oggi ho avuto un'idea bellissima Avete presente la mia entrata famosa dove parto dalla pedana, faccio la spaccata e arrivo in spaccata sulla trave? Se non avete presente ecco qui il video Mi sono svegliata stamattina e ho pensato ma se alziamo il livello di questa entrata e se invece che fare soltanto una spaccata facciamo il cambio Tipo il jump di cambio ma arrivando sempre in spaccata sulla trave Forse è un'idea bellissima, forse è un'idea terribile, non so, non so nemmeno se riesco a farla ma oggi proveremo Inventeremo ufficialmente la campana Non sarà veramente nel codice perché dovrei gareggiare e fare questo elemento a una gara mondiale Però in Sofieland si chiamerà la campana questo elemento Il video di oggi viene fatto da Milano Italia perché sono tornata in Italia per fare un mese di stage E infatti settimana prossima tornerò qui alla GEAS di Milano per fare uno stage del Mente Potente Tour Con cento bambine, cento di voi, non vedo l'ora Alli stage insegno sia la ginnastica artistica che la forza mentale Se voi non siete iscritti alle società che mi ospitano per gli stage ma volete comunque partecipare Potete, basta che siete assicurati, potete venire allo stage più vicino a voi per partecipare Però quanto sarebbe figo avere la campana nel codice Allora ho pensato di iniziare riscaldandomi le gambe Cercando di aprire velocissimo perché dovrò essere straveloci come un fulmine per poter stare sulla trave Pronti Mi sa che questo era il riscaldamento più veloce dei video mia Un po' di ansia, non vedo l'ora di provarlo sulla trave Andiamo raga, andiamo sulla trave Ok Allora la domanda è Lasciamo questo tappeto sulla trave Il tappetino Un po' lo tolgo Secondo me è stato messo lì apposta Per me Per utilizzare oggi E non togliere Perché sembra altissima questa trave Sono solo io e sembra altissima questa trave E' che bisogna di un tappeto più duro sotto Sennò la pedana non funzionerà Prima cosa da vedere è se la pedana funziona Perché questi tappeti sono un po' marshmallow Sono un po' marshmallow Un po' morbide Da mettere una pedana sopra Perché squishy marshmallow assieme alla pedana Non è che funziona benissimo per rimbalzare Vediamo se si spie Non penso che dovrebbe essere così difficile ma vediamo perché devo muovere le gambe tipo due volotte velocità Due ex Non può essere così difficile Non so cosa fare Prova e basta Parato Ho messoci le mani Ciao Ciao Ci sono delle fiamme che saluteranno Ciao Ciao Loro hanno fatto mezzo all'elemento oggi ma di solito fanno il doppio E adesso vanno a scuola a Bergamo Sì Quindi guidano un'ora per fare la scuola privata Siete molto dedicate Alla scuola Grazie Grazie Basta che lo fate col fuoco dentro sempre E il vostro cuore E qualche risata qua e la Parliamo Grazie Ciao 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 Cosa mi sto facendo farle Forse la potrei provare da qualche passo Tipo così Rimettiamo la pedana come era prima E devo saltare Molto forte E stranciare molto veloce Non so veramente se questo è possibile Forse è per questo che non è stato Inventato ancora Guarda che faccio qualche rimazzino In più Si può fare? Magari Non fa paura E il peggio che può succedere È che cado Sono già caduta mille volte Che fiffona La cosa più brutta che ho mai fatto Siamo quasi però Ma ci sono quasi Ci sono quasi Più veloce devo essere Questo si chiamerà Non la campana ma il salto del fumine No way Non ci sto credendo Oh my god Non è vero Oh my god Mi serve per io Io ho appena fatto la campana ragazzi Aspetta Non so come hai fatto Aspetta La prima spaccata era piccolissima Non so se vale Adesso provo a aprire ancora un po' No Posso farlo meglio Non riesco a capire se è elegante O proprio strano Come elemento Adesso lo voglio Come si dice Inchio d'aria Non stai sudando Non stai lavorando Se non stai cadendo Non stai provando Sign Fa tutto bene Riproviamo Sto confondendo La ginnastica Con le mie nuove Lezioni di karate Ragazzi Abbiamo inchiodato Abbiamo ufficialmente inventato La campana Votate nei commenti Secondo voi Che valore prenderebbe Nel codice Secondo me è una D Questo è stato divertente Se lo provate Non dimenticarvi Di taggarmi su Instagram E in molti che vi riposto Sulle mie storie Meno male che ho avuto Questo tappetino Che mi ha salvato la vita Che divertente che è stato Se non siete ancora iscritti Non dimenticatevi Di iscrivervi A Sofieland Siamo a mezzo milione Di fiamme Non ci credo I love you guys Vi amo XXO Al prossimo video E che il fuoco Sia dentro di voi Ciao